Quanta gente nelle tue condizioni si bacerebbero i gomiti, che se riesci a andar dentro lì c'hai un posto sicuro per tutta la vita, mi raccomando. Che roba? Gli esami. Gli esami? Gli esami dei cosa? Saluto la cara laborale. Palmi su, palmi su. Adesso lei ripeterà in alta voce tutto quello che le dirà il dottore. Diciassette. Biciclette! Hai bagnato il letto fra gli otto e i quattordici anni? Volevo studiare lingue, ma poi mi sono stufata. Sai com'è? Tanto una donna prima o poi si sposa e buonanotte. Domenico come nome ti si dice. Perché? Perché sei un po' antico anche tu come il tuo nome. Mio padre dice che in queste grandi aziende questi paesi non si allungano anche, ma però sono posti sicuri per tutta la vita. Casamai ci si rivede. Se ci prendono a lavorare. Anche Domenico. Grazie a tutti.